Il sud di un paese velo assai, il sole caldo e non si fredda mai, il mare assurro verde e spero gente, qui non si vide mai roba inquinante, siamo genti, felici e stracontenti, non abbiamo bisogno ma di niente, quasi campadaria, quasi campadaria, quasi campadaria, il sud è un vero e proprio paradiso, se vuoi morire devi morire ucciso, o gente in perlito in fede qui non si sa cos'è una malattia, e non mi spiego con quale causare, ogni città ci parla all'ospedale, tutta roba e potere, tutta roba e nutre qua non muore ma nessuno, anche i camposani ci sono, il sud è un clima che strabiliamo, bisogni fisiologici per niente, e il nord che si beve e che si mangia, e c'è bisogno di evacuare la pancia, o gente ve lo dico in confidenza, noi non sentiamo nuova questa esigenza, quasi campadaria, quasi campadaria, quasi campadaria, quasi campadaria, e che si sono messi in testa i governanti, di l'industria si aliasci tutti quanti, fatemi, fatemi costri che non urci, a me nel sud c'è crisi da urci, ma che bisogno c'è di lavorare, questo cielo, statun e questo mare, quasi campadaria, quasi campadaria, quasi campadaria, quasi campadaria, quasi campadaria, e che si sono messi in testa a queste paure, ma pure le scuole ci vogliono fabbricare, ma non lo sapete, siamo tutti scienziati e allitterati, le scuole sono fatte per ignorare anche l'ombre nuovi che siamo intraligenti, ma dice, ma se qua si campadaria, tutta questa migrazione, come si spiega? Si spiega, si spiega e perché non ci viaggi a viaggiare, non c'è l'altro paese, la medica, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la Francia, l'Uberge, l'Italia, perché è brutta Milano, è Torino, che ci manca Torino? E' Cina Castellone, che ci manca Cina Castellone? Fatti non foste a vivere come brutti, ma perseguire virtute e conoscenze. Mi dicono che al nord o la notte scura, piena di rabbia e piena di favore, qui invece è giorno chiaro permanente, ma che ci serve a noi questa corrente? Chi ci avete messo a fare sti lampioni? Se c'è la nuova bella e le nazioni, tutta roba, i modelli, tutta roba, i modelli le facciano bellissimo anche i piloti, c'è una nuova prima di una smuta alla luna e ci hanno fatto superare strada, lunghe e tali, 40.000 metri, ma perché manceranno poi a spantare e non poter piantare i padati? Ma non per noi, perché noi non abbiamo bisogno di mangiare, ma per mandare le robe, perché la si campa d'aria, la si campa d'aria, la si campa d'aria, non vi preoccupate, non vi applicate, che la si campa d'aria, la si campa d'aria, la si campa d'aria, la si campa d'aria, non lo sapevate? No!